Buongiorno a tutti, vi parlo del nuovo numero di dimagrire e mi soffermo su una voce. Marie-Louise von Franz, una grande psicanalista, sosteneva che nell'orecchio di ogni donna c'è una voce che le dice tu non sei all'altezza. Io ho constatato molte volte in psicoterapia che molte donne non si sentono mai veramente all'altezza, è come se dentro molte donne vi fosse una voce che dice guarda che tu non vai bene, devi migliorare, non vai bene. Tutte le volte che questa voce prende il sopravvento o che in qualche modo in noi magari non sentiamo più questo suono ma si forma l'immagine che non andiamo bene, che c'è qualcosa in noi che non va bene, sapete cosa fa il cervello? Per vincere questa frustrazione si rifugia nel cibo e siccome la frustrazione è forte, cerca cibi dai sapori forti, i cosiddetti cibi killers, le patatine, i popcorn, gli alcolici, le cose salate, come se quella forza che non vediamo dentro di noi venisse in qualche modo ritrovata attraverso il cibo. Quella voce non vai bene, quella voce non vai bene, è una voce che ci porta alla dipendenza, su questo numero di dimagrire ho voluto dare molto spazio all'indipendenza. Ma cos'è l'indipendenza? L'indipendenza è dire io sono così, per il fatto che sono così, che sono diverso, pagherò le conseguenze se necessario, ma sono così e sono diverso, sono una donna diversa dalle altre e quindi quando qualcosa non va bene dico no. Molte delle persone che ingrassano hanno tutta una caratteristica comune e pensano che dimagriranno quando cambieranno vita, poi siccome la vita non cambia non dimagriranno mai. Invece basta eliminare questa voce dell'insoddisfazione interiore, del dire io non sono quella che non vale niente, io sono quella che ha certe caratteristiche, che ha quegli occhi, quel volto, quegli interessi, quel modo di stare in campo e quella che reagisce quando le cose non le vanno bene. Le donne che imparano a dire di no dimagriscono, le donne che cambiano lo sguardo dimagriscono, le donne che smettono di sottovalutarsi e di criticarsi dimagriscono. Buona lettura. Grazie.